E' partito qua il video. Team Solve 3.60. Partiamo Santa Arsiera. Prima palla, Branca Leoni, lo scarso del gruppo. Anzi no, sembra anche abbastanza tecnico. Olè, seconda palla, via. Terza palla su Nicolò Simone, che fa tanto forte, però è veloce. Sant'anziero. Guarda che faccia che fa. Hanno fatto palla skip, 57.60.